Parliamo di nuovo di vaccini, però andando in Israele. Perché andiamo in Israele? Perché Israele sta diventando il paese leader nella campagna mondiale delle vaccinazioni anti-Covid. Pensate, 1.400.000 vaccinati su una popolazione complessiva di circa 9 milioni e stanno andando ad una velocità del tutto diversa da quella a cui invece siamo abituati noi in Europa. Non soltanto in Italia, ma pensate un po' all'esempio della Francia che ha fatto tanto arrabbiare Macron e si è reso conto che la Francia praticamente è quasi ferma per il momento. Allora, delle vaccinazioni in Israele ne parliamo con il professore Nadav Davidovich, direttore della Scuola di Salute Pubblica della Ben Gurion University e che fa parte anche del comitato di esperti che aiutano il governo israeliano nella campagna di vaccinazioni. E ne parliamo anche con il nostro corrispondente da Gerusalemme, Carlo Paris. Allora, intanto cominciamo con Paris. Paris, ci dai un po' la fotografia più esatta di quello che ho detto io sulle vaccinazioni in Israele? Sì, hai dato sicuramente dei dati perfetti perché siamo arrivati ormai a 1.400.000 vaccinati dallo scorso 23 dicembre. Noi da parecchi giorni stiamo divulgando questi dati, però ci si chiede, e non solo in Israele ma da parecchi paesi al mondo, si chiedono qual è il segreto di Israele, che cosa ha fatto Israele che altri paesi al mondo non hanno fatto. Di sicuro ci sono varie distinzioni. Di sicuro c'è stato un Israele ha pagato di più il vaccino della Pfizer, secondo qualcuno addirittura il doppio, ma questo non può bastare per giustificare questi numeri. La ditta produttrice, la Pfizer, avrebbe scelto Israele proprio come paese campione, pilot in inglese, perché ha delle caratteristiche molto particolari. Appena 9 milioni di abitanti è un paese chiuso con diverse etneie e soprattutto con una organizzazione sanitaria di tipo occidentale molto efficiente. Di fatti, oltre al fatto che siano arrivati tanti vaccini, c'è il fatto che fin dal primo giorno questi sono stati distribuiti in una maniera capillare, con una velocità e un'organizzazione a livello nazionale molto particolare. Tra l'altro Israele non è diviso come l'Italia in regioni, l'End come in Germania. Detto questo, si pensa che dal prossimo fine settimana, secondo qualcuno questa massiccia dose di vaccini dati alle persone possa ridursi, perché comunque i numeri dei vaccini sono quelli che sono. Carlo, vogliamo sentire allora il professor Davidovic. Buongiorno professore. Scusate, posso dire una cosa? Comunque ricordiamolo che Israele, nonostante questa grande efficienza, è al suo terzo lockdown, se non vado errata. Carlo, è così? Me lo confermi? Allora, il terzo lockdown non è stato ancora deciso. Ci saranno due riunioni di governo, una oggi e una domani, che potrebbero, anzi quasi certamente decideranno il terzo lockdown, anche perché i numeri di positività, di contagi, stanno aumentando, sono arrivati a circa 8 mila e dunque è un numero che preoccupa, visto anche la popolazione di 9 milioni. Professor Davidovic, allora, qual è il segreto di Israele? Buongiorno. Prima voglio dire che sono molto orgoglioso di parlare questa mattina, perché sono cresciuto in Italia. mio padre ha studiato a Bologna medicina, mia madre ha lavorato come infermiera e anche la mia famiglia abita là, allora per me Rai 1 e alle anni 70 era l'avventura di Pinocchio, allora sono molto orgoglioso di essere qui. Quindi è una Madeleine in qualche modo questa sua partecipazione questa mattina da noi. Sì, sì, e anche grazie al mio cognato e alla mia sorella che mi hanno notato un pochino per, lo sai, avere qualcosa di professionale in italiano, la mia lingua è più come la prima elementare. Allora, il successo di Israele ha molteplici cause. È molto importante ricordare che la società israeliana ha una lunga storia di impegno con i vaccini. Prima della fondazione del paese era un punto di forza, programmi sanitari della comunità. E anche abbiamo una base professionale molto valida, una strategia di priorità, decisa da comitati di esperti. Anche la resistenza ai vaccini è marginale in Israele. Il Ministero del Salute, l'Associazione Medica Israeliana e anche diversi NGO hanno collaborato a convincere i cittadini più dubbiosi, portando un'ampia richiesta alla popolazione che dà gli operatori sanitari. E come avete detto, la struttura del sistema sanitario israeliano è basata sul diritto della stupirazione sanitaria nazionale, a quattro fondazioni senza scopo di lucro, con forte orientamento verso la comunità, ampia diffusione geografica facile, con accesso gratuito, con elevate capacità logistiche. E come hai detto prima, Pfizer e anche Moderna, loro vendono Israele come un paese che può servire un esempio. Abbiamo Computerize Medical Record che è molto forte, ma più importante penso è il stato di emergenza che abbiamo fatto, ad restamenti per l'emergenza biologica, con la vaccinazione di massa negli ultimi anni, e anche la capacità logistica. Avete ragione che adesso, con la situazione politica qui in Israele, e allora volevo che tutto altro sarà così bene come questa campagna, ma abbiamo adesso molti casi di Covid, e le prossime settimane sono molto importanti. L'ultima domanda a Carlo Paris, perché Carlo, tu ti sei vaccinato. Sì, intanto volevo aggiungere una cosa che ha detto il professore, perché proprio in queste ultime ore nel corso della notte è arrivata un'altra buona notizia per Israele, perché il vaccino della Moderna potrebbe quasi certamente arriverà in netto anticipo entro gennaio, rispetto a marzo. Per quanto riguarda il mio caso personale, sì, mi sono sottoposto proprio il 31 di dicembre a Tel Aviv, presso il grande ospedale, molto efficiente ospedale Ikilov, a vaccinazione, e là ho potuto vedere di persona questa grande organizzazione capillare. Non è una scienza israeliana, ma sei l'unico giovanotto non sanitario che si è vaccinato in tutto il Mediterraneo. Praticamente sì. Grazie, grazie a Carlo Paris e grazie al professor Davidovic.